E allora qui Saul, tornato dopo il campionato, è stato ritirato il suo cartellino e è ritornato con la Tavata. Questo giorno purtroppo è stato bagnato dai 9 gol del Cagliari. Saul, come è andata? Come è andata? È andata che il Cagliari stasera ha benedato con un piede. Grande partita con Patti, squadra decisa. Si sta affermando in questa Europa League. Noi oggi, come una giornata, c'è veramente dal primo all'ultimo minuto, ogni giocatore... Brutta partita, brutta partita. Peccato perché potevamo magari strappare un pareggio e invece di restare inizialmente. Però dai, collettivo ci siete. Mancava a voi quei 3-4 elementi fondamentali. Siete lì, se non Euro siete sempre secondi del girone dell'Europa League. Adesso vi riposerete che ci sarà anche il fermo per le feste pasquali. Quindi puntate al girone di ritorno. Assolutamente, assolutamente. Il girone di ritorno, 3 partite, 3 vittorie. Non lasceremo nulla a caso. Vogliamo vincere. Bene, allora è solo passione.